Cari amici della Udine Volley, questa sera siamo in compagnia di Beatrice Snidero, capitano della nostra B1 targata Iob Group. Ciao Bea! Ciao! Si è appena conclusa questa fase iniziale di preparazione al campionato, sabato giocheremo la prima, l'esordio contro torri. Come vi siete preparate e come siete cariche a livello emotivo? Sicuramente c'è tanta voglia e tanta grinta di iniziare questa nuova avventura. È da un bel po' mai che ci alleniamo e abbiamo fatto tanti passini avanti dal primo allenamento fino ad oggi. Siamo cresciute tanto come gruppo quindi non vediamo l'ora di iniziare. Dicevamo le avversarie torri, torri volley, cosa vi aspettate dopo averle studiate a video per bene? Sì, le abbiamo studiate molto e ci stiamo preparando. Sono una squadra sicuramente molto giovane ma sicuramente si stanno preparando anche loro e ci stanno studiando. Per cui bisogna stare attenti e stare concentrati e aiutarci l'una con l'altra. E basta, un bocca al lupo. Allora, approfitto dell'occasione per ricordare a tutti che sono in vendita i biglietti online sul sito vivoticket.it. Sul nostro sito www.rizzivolley.it potete trovare tutte le indicazioni per accedere al palagesteco. Saremo anche in diretta su MS Channel, canale 814 di Sky e 54 di TVSAT, oltre che sul sito mschannel.tv. Credo di aver detto tutto. Chiamare raccolta a tutti quanti. Vi aspettiamo per un grande tifo. Per un esordio storico per l'audine volley. Grazie mille e in bocca al lupo. Ciao, crepi.